Mister Gino Monaco, quella contro il futsal guadagno si presentava come una partita non facile ed effettivamente facile non è stata. Però alla fine la voglia di far punti da parte della Virtus Libera ha premiato la tua squadra. Sì, l'abbiamo affrontata bene. Se guardiamo la partita e le occasioni abbiamo meritato di vincerla. Naturalmente nel calcio a 5 non c'è mai niente di sicuro, specialmente quando si incontra una squadra che è all'altezza, che è già nei pre-off, che ci ha buttato fuori dalla Coppa Italia. Dovevamo stare più attenti quando hanno messo il portiere, però alla fine abbiamo tenuto. Mi dispiace solo per qualche ammunizione di troppo. In questa categoria dobbiamo crescere un pochino tutti quanti, cominciando dagli albitri, calciatori, allenatori, dobbiamo crescere tutti quanti. Mi dispiace che una partita su un risultato che noi avevamo acquisito meritatamente è stata messa in discussione da alcune decisioni non equilibrate. Perché se uno fa ostruzione sul portiere da una parte, poi la fa sull'altra, sull'altra viene ammonito e espulso e sull'altra non viene proprio visto. Stanno le immagini che parlano chiaro. Io questo ho detto agli albitri, solo equilibrio. Come si decide in un'occasione, si deve decidere anche nell'altra occasione. La partita è andata, non dico liscio perché, ripeto, di fronte avevamo una signora squadra. Però quando si commettono delle ingenuità, se andate a vedere gli ultimi due gole che abbiamo preso, cioè lì anche un bambino avrebbe segnato al di là del valore degli avversari. Bisogna stare attenti, questa è una categoria che è difficile, bisogna guardare il dettaglio. Noi addirittura regaliamo le reti e quello non deve più succedere se vogliamo ambire a qualcosa di importante. Una nota di merito per l'allenatore, questa Virtus Libra quest'anno sembra Monaco dipendente però, dobbiamo dirlo. No, assolutamente. In primis c'è la società dietro che è perfetta in tutto, non ti fa mancare niente, anche a questi ragazzi. Ecco, io dico con una società del genere non ci possiamo permettere di commettere degli errori che poi mettono in discussione tutto il lavoro che fanno dietro. L'allenatore è parte integrante della società come della squadra. Noi siamo un blocco, tutti uniti, dobbiamo andare fino alla fine sperando di prendere una buona posizione per il play-off. Giuseppe Caruso, una partita tiratissima che la Virtus Libera poteva vincere con qualche gol di scarto in più. Ci si è complicata un po' la vita a un certo punto ma oggi quello che valevano erano i tre punti e sono arrivati. Sicuramente valevano i tre punti, una vittoria al Cardiopalma, potevamo chiuderla prima. Come diceva il mister, dobbiamo crescere ancora su queste situazioni. Purtroppo ci siamo complicati la vita e abbiamo preso qualche cartellino di troppo. L'importante comunque oggi contava il risultato e abbiamo portato i tre punti a casa che sono fondamentali per il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo da sempre è cercare di disputare i play-off in casa o perlomeno quante più partite possibile in casa. Se le vinciamo tutte da qui alla fine possiamo fare il terzo posto e speriamo di raggiungere questo obiettivo anche per regalare qualche soddisfazione ai nostri tifosi che ci seguono come sempre in tantissimi. Oggi il Paracasale era gremito e questa è una grande soddisfazione per i ragazzi, per lo staff e per la società.